Ha suscitato molto dolore e commozione in città la morte, a soli 48 anni, di Giuseppe Iannucci, che si è sentito male sul Gran Sasso mentre scendeva, tragedia avvenuta sul Monte Aquila. Era molto conosciuto in città, in quanto titolare con i fratelli di un'autodemolizione a San Vittorino. Monte Aquila, sul quale era stato tante volte, è stato fatale però ieri mattina per Giuseppe Iannucci, 48 anni, appunto, originario di Pizzoli. La procura ora ha aperto un'inchiesta, anche se non dovrebbero esserci dubbi sulla sua morte. Stava salendo in gruppo con alcuni amici verso Monte Aquila, dove praticava da sempre sci-alpinismo. Ad un certo punto ha sentito che qualcosa non andava e ha deciso di ridiscendere a valle da solo. Lo hanno trovato così, con il viso riverso sulla neve, alcuni sciatore. Per lui però non c'era più niente da fare. Sono stati allertati i soccorsi intorno alle 10.30. Il recupero poi è avvenuto con l'elicottero da parte degli operatori del soccorso Alpine D-118 ed è stato anche difficile. A causa del forte vento, la giornata era assolata e bella, l'ideale per andare in montagna. Dopo circa due ore l'elisoccorso è riuscito ad atterrare al San Salvatore. Giuseppe Iannucci è stato portato però direttamente all'obitorio, dove c'è stato subito un viavai di amici e parenti increduli per questa tragedia. Era un uomo esperto di montagna, infatti di tutti gli sporti legati alle altitudini del Gran Sasso. Anche in estate frequentava il Gran Sasso, pescalate ed escursioni. Sembra essere l'infarto la prima ipotesi per la sua morte. Non aveva problemi di salute. Giuseppe, oltre ai fratelli, lascia la madre Ivana, la compagna Sara e la figlia Michelle. Cordoglio è stato espresso da più parti, anche dal mondo politico, con l'onorevole Stefania Pezzopane e il vice sindaco Raffaele Daniele, ma anche il mondo dell'associazionismo ha voluto esprimere parole di cordoglio per lui, con il direttore regionale di Confcommercio Celso Cioni e il presidente Roberto Donatelli. Dal 2015 ad oggi sono sei le tragedie sull'evetto del Gran Sasso durante le escursioni.